Allora, salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici di tornare nuovamente con voi. Benissimo. Allora, vogliamo fare un video risposta per una domanda molto, molto interessante da parte appunto di qualcuno che segue il canale. E quindi la voglio leggere. Certamente noi manteniamo sempre l'anonimato di chi ci scrive. In questi 12 anni di video abbiamo sempre mantenuto l'anonimato di tutti coloro che ci hanno scritto. Siano questi amici nostri, siano questi nemici nostri che ci avete scritto per... Insomma, attaccarci, comunque abbiamo sempre rispettato l'anonimato. Bene. Cosa completamente diversa quando scrivete sotto i video. Lì è pubblico. Allora a quel punto lì possiamo fare il nome. Ma quando ci mandate la mail l'anonimato viene sempre garantito. Quindi, leggo testualmente. L'unica cosa che andrò a omettere è quando lui fa il proprio nome. Ok. Allora dice, salve signor Alessio. Bene, salve. Dio la benedica. Innanzitutto Dio la benedica. Grazie altrettanto lei è famiglia. E grazie per scrivere. Amen. Gloria a Dio. Ho una domanda sul matrimonio. Leggiamola. Nella scrittura, in prima Corinti, capitolo 7, Paolo dice Verso 12 Ma agli altri dico io, non il Signore. Se un fratello ha una moglie non credente e questa ha consente di abitare con lui, non la mandi via. Verso 13 Anche la donna che ha un marito non credente se questi ha consente di abitare con lei, non lo mandi via. Se ricordo bene, lei in un video ha detto che bisogna sposarsi solo con persone credenti. Se lei mi conferma questa affermazione, come mai la scrittura dice altro? Punto di domanda. Ok. Quindi, se lei mi conferma questa affermazione, sì, la confermo. Amen. Amen. Amen, gloria a Dio. È così. Allora, come mai la scrittura dice altro? La scrittura dice altro? Interessante domanda. Guarda, io la ringrazio per avermi scritto. perché è esattamente quello che io vado insegnando da molti anni. Allora, devo cercare adesso di stare molto attento alle parole, perché se le mie parole, in questa intro, vengono travisate, posso dare adito a pensare che magari io voglio o insultare o prendere in giro. No, io non faccio i video, né per insultare, né per prendere in giro, assolutamente no. Il signore mi guardi, anzi, reputo che la domanda ha fatto benissimo a farla. Però questo non fa altro che confermare quello che io proprio vado dicendo da anni, ovvero l'affermazione che io faccio molto spesso è la seguente. Se noi in questo canale insegniamo anche a ragionare, insegniamo la razio, perché insegniamo la razio, perché già l'ho spiegato in un altro video, spero lei l'abbia visto, perché noi esseri umani dobbiamo imparare a ragionare. Chi? Tutti. Cioè non è che c'è una categoria di persone che non deve imparare a ragionare. No, perché imparare a ragionare richiede una vita e quando io, Alessio Evangelisti, ho imparato a ragionare su un argomento, avrò altri argomenti che non sarò in grado di affrontare razionalmente senza sbagliare. E quindi dovrò anche lì andare a lavorare su me stesso. Quindi è un, come dire, è un processo dinamico. Ok. L'essere umano, cominciando da me, e adesso lo dimostro, a tutti, tutti, allora ora vi dimostro che è vero, tutti gli esseri umani abbiamo, chi più chi meno, problemi di logica funzionale. Si chiama analfabetismo funzionale. E quindi bisogna colmare questa discapacità razionale. Un esempio, l'ateo. L'ateo. L'ateo che cosa dice? Non c'era nulla? Nulla. Il nulla, proprio il nulla, non è lo spazio-tempo. No, no, il nulla è il nulla. Bene, dal niente è nato tutto. Come si chiama questa discapacità funzionale? Vogliamo prendere noi, i credenti, il credente, il cristiano? Ah, io non giudico mai. Non bisogna giudicare. Perfetto. Perché dici a me quando io predico? Se non giudichi, non puoi dire a me. Non devi dire niente. Anzi, qualunque cosa ti dica io, non puoi contestarla. Perché? Perché se non giudichi. Discapacità funzionale. Ci sono due versi nella scrittura che dicono di non giudicare nel Nuovo Testamento. Va da memoria. Dovrebbero essere due. Correggetemi se la mia memoria è venuta meno. E ce ne sono 200 miliardi, ce ne sono molti di più, che dicono di giudicare. Per quale motivo io scarto una infinità di versi, in nome di due versi decontestualizzandoli? Discapacità funzionale. Io, sia prima di diventare cristiano, la mia discapacità funzionale era alle stelle. Ancora oggi io sto imparando, vado da persone che ne sanno mille volte più di me, affinché questi mi insegnino a ragionare laddove ho delle lacune. Quindi, non è un fatto che ha a che vedere con, o poi da qui entriamo in mille altri discorsi, dove ci sono persone che si ribellano, persone qui, vabbè. Però una persona normale, comune e corrente, deve sempre imparare a ragionare. Poi c'è proprio chi si ostina a non imparare a ragionare. Vedi l'ateo che dal nulla vuole far fuoriuscire tutto, oppure vedi il cattolico di turno che ti dice Ah, ci sono 3.007 in mezzo agli evangelici, quando noi siamo meno di 200 numerate. Però lui questa verità non l'accetta, lì proprio non c'è niente da fare. Oppure vedi il terrapiattista, quello che dice che la terra è piatta. Cioè, poi ci sono questi eccessi che là proprio non c'è niente da fare. Quelli sono gli eccessi. Ma le persone comuni e correnti, come lei, come me, come tutti quanti, abbiamo sempre delle lacune. E infatti lei qui ha delle lacune. Perché? Ma glielo dimostro subito. Lei dice, ascolti, io sono qui per aiutarla, non è che... Allora, lei dice, mi cita un passo della scrittura, dove la scrittura dice se un fratello ha una moglie non credente e questa ha consente di abitare con lui, non la mandi via. Ovvero, se un marito è non credente, se questo ha consente di abitare con lei, non lo mandi via. Poi lei dice, se ricordo bene, lei in un video ha detto che non bisogna sposarsi solo con persone credenti. Se lei mi conferma questa affermazione, come mai la scrittura dice altro? Ma, signore, sposarsi. Intanto non l'ho detto io, lo dice la scrittura. Quindi lei, in nome di un passo, va a annullare un altro passo. Ma andiamo piano. Cosa c'entra? Il matrimonio con il divorzio. Perché lei mi porta un passo che non parla del matrimonio, ma parla del divorzio. Non so se mi sono spiegato. Il matrimonio è una cosa, il divorzio è un'altra. Che cos'è? Anche se sono imparentati, che cos'è il matrimonio? Il matrimonio è la scelta di sposarsi con una persona. Cioè io non sono sposato, decido di sposarmi. In questo caso, dice la scrittura, che non mi posso sposare con chi mi pare. O non lo dice la scrittura? Vogliamo vederlo insieme? Allora, prendo la mia Bibbia. Io leggo da una vecchia di dati. Seconda, Corinti, capitolo 6. Eccolo qua. Allora, seconda, Corinti, capitolo 6, verso 14. Non vi accoppiate con gli infedeli. Non vi accoppiate con gli infedeli. Perché? Te lo spiega. Che partecipazione vi è egli tra giustizia e iniquità? E che comunione vi è egli fra luce e tenebre? Vede, non lo dice Alessio Evangelisti. Lo dice la Bibbia. Quindi lei, in nome di, è scritto in prima Corinti 7, vuole annullare, secondo a Corinti 6. Continuiamo. E che armonia vi è egli fra Cristo e Belial? E che parte ha il fedele con gli infedeli? E che accordo vi è? Egli del Tempio di Dio con gli idoli, poiché voi siete il Tempio del Dio vivente. E questa verità verrà ripetuta in prima Corinti 3 e prima Corinti 6. Siccome Dio disse io abiterò nel mezzo di loro e camminerò fra di loro, e sarò loro Dio, ed essi saranno popolo, perciò dipartitevi, dipartitevi e separatevi. Da loro, dice il Signore, non toccate nulla di mondo ed io vi accoglierò, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi non è Alessio Evangelisti che dice che non bisogna sposarsi con gli infedeli. Lo dice la Bibbia. Lo dice la Bibbia. Quindi vado a reiterare che non bisogna sposarsi con gli infedeli. E allora come si va a coniare quello che è scritto in prima Corinti 7? Ma lei non parla del matrimonio da fare. Ma parla del matrimonio già fatto. Fra l'altro, manca anche un po' di contesto storico. Prima Corinti 7 è Paolo che scrive. E il contesto storico è... Mi ricordo, in che anno è stata scritta la seconda epistola ai Corinti, nel 60? Nel 58. Nel 58. Quindi erano... Quanti anni erano che il Signore Gesù Cristo era morto? 20 anni più o meno? 30 anni? Adesso gli anni esatti non li sappiamo. Diciamo che più o meno erano 30 anni che era nato il Cristianissimo. Il Cristianissimo era nato da poco. E la Chiesa ai Corinti era nata ancora da poco. Perché Paolo, se non vado a errata, a un Corinti c'è stato un anno e otto mesi. Paolo è entrato a un Corinti, che c'erano pochi credenti, ha fatto nascere per la guida dello Spirito Santo questa Chiesa, questa comunità, e quindi le persone si sono convertite a Cristo. E quando si sono convertite a Cristo non è che si convertono sempre in coppia. A volte si convertono marito e moglie, ma alle volte succede che si converte il marito e la moglie resta miscredente, ovvero il contrario. Ed è in questo contesto che Paolo scrive Se la moglie ha un marito inconverso non si separi, viceversa, se il marito ha una moglie inconversa non si separi. E questo non fa altro che concretizzare l'indissolubilità matrimoniale, come è scritto in Prima Corinti 7,10. Prima Corinti 7,10 dice Non si separi l'uomo dalla moglie e la moglie dall'uomo. Non si separi. E seppur si separa, perché uno dei due si separa, adesso questo è un altro ragionamento, Quindi il divorzio non è minimamente contemplato e il risposarsi assolutamente no, a meno che non muoia la persona. Ma questo è un altro ragionamento. Quindi, lei mi porta un quesito che ha a che fare con il matrimonio, quando invece la scrittura non parla del matrimonio, ma parla del divorzio, dell'annullamento di un matrimonio. Allora, il matrimonio è una cosa, cioè lo sposalizio, lo sposarsi è una cosa, ok? Mentre invece, l'essere già sposati è un'altra cosa. Sono due cose. Un conto è uno che si deve sposare, che non si può sposare con un non credente, Seconda Corinti, capitolo 6, verso 14. Un conto è uno che già è sposato. Quindi sono due cose completamente diverse. Certamente da come lei scrive, mi fa capire che lei non ha mai letto la Bibbia. Perché? Ebbè, perché mi cita prima Corinti 7, annullando Seconda Corinti 6, 14. Quindi lei non ha mai letto la Bibbia. Ok, io potrei finire qua, perché ho già risposto, però siccome voglio arricchire il popolo della conoscenza della parola di Dio, perché io nel mio piccolo insegno Bibbia, e a sua volta vengo insegnato, oggi, domani e finché sarò in vita, sarò sempre insegnato. Dovrò sempre essere insegnato. Ok? Quindi nel mio piccolo io insegno Bibbia. Per esempio a lei, lei sta insegnando la Bibbia, perché ci sono delle lacune di conoscenza nella sua vita, oltre che delle lacune di altro genere, come già detto, e queste ce le abbiamo tutte. Ecco perché si fanno i video, ecco perché anche io vengo corretto da altri anziani e mi dicono, Alessio, in questo sei venuto meno razionalmente. Quello che stai dicendo è illogico e così via discorrendo. C'è un passo, adesso andiamo nell'Antico Testamento, che è un po' diverso dal Nuovo Testamento. Devi leggere, c'è un passo in Esdra, capitolo 10, quando c'è il rimpatrio degli ebrei della cattività di 70 anni in Babilonia, Babilonia barra Persia, Medo Persia. Devi leggere tutto quanto questo capitolo, che non faremo per motivi di tempo. Quando gli ebrei tornano, succede un qualche cosa che lascia di stucco il lettore neofita. Infatti io quando l'ho lessi, che ero giovane nella fede, rimasi di stucco. Però lo accetti, anche se rimani di stucco. Allora, che succede? Che a un certo punto Esdra, che era molto rigido, giustamente, ma adesso questo è sulla però, ordina, ordina che gli uomini si devono separare dalle loro mogli e le devono rimandare a casa e addirittura alcuni sono stati battuti. Wow! Perché? Domanda del milione. Perché? La risposta si trova in due passi della parola di Dio. Quando tu leggi Esodo capitolo 12, ti dà una infinità di comandamenti. Il primo comandamento di Esodo 12 è il tempo, il calendario. Infatti tutte le nazioni che conquistano un'altra nazione, la prima cosa che fanno è cambiare il calendario. Questo non è la storia. Dio ha fatto la stessa cosa. Gli ha dato un calendario. con delle festività e in mezzo a questa infinità di comandamenti, gli dà un comandamento che gli ebrei conoscono molto bene, che è il comandamento del proselitismo. Quindi tutti gli ebrei, tutti, scusate, i goemi, i gentili, i pagani, che vogliono entrare a far parte del popolo di Dio e festeggiare la Pasqua, siano accettati ed entrino negli ordinamenti di Dio, mettendoli in pratica, e quindi vengono circoncisi. Che cosa è successo in Esdra 10? Che le donne che sono state prese da questi uomini ebrei, da parte di questi uomini non c'è stato neanche un minimo desiderio di presentargli, cioè non li hanno neanche presentato la fede, la legge, neanche gli hanno parlato di Dio e quindi non solo avevano sposato delle pagane, ma loro stessi erano diventati pagani. Ma Alessio, ma Esdra 10 non dice questo? Non dice questo? Ma tu non puoi giudicare un verso senza conoscere tutto il contesto. O non hai mai letto Nemia 13? Vogliamo leggerlo? Perché Erdra e Nemia sono complementari, per chi non lo sapesse. Andiamo a prendere Nemia 13. Allora. Nemia, eccolo qua. 13, eccolo qua. Ok. Allora, Nemia, capitolo 13, dal verso 23, che tra l'altro ce l'ho anche tutto evidenziato. «In quei giorni io vidi ancora dei giudei che avevano menati mogli, Asdodee, Ammonite, Moabite». Ma sai che nel lignaggio messianico c'è una Moabita? Ma questa è un'altra storia. E la metà dei loro figliuoli, la metà, quindi la metà, non tutti, ma la metà dei loro figliuoli parlava Asdodeo e non sapeva parlare giudaico. Quindi neanche ti fa capire che neanche gli avevano insegnato la lingua con la quale si doveva leggere la legge. Quindi, attenzione, cioè non gli avevano presentato la legge, non gli avevano neanche parlato di Dio, in pratica, ti sta dicendo qui la scrittura. Perché Esodo 12 ti dà la possibilità di entrare a far parte del popolo. La stessa legge Rutte, Naomi, entrò a far parte del popolo di Dio, essendo Moabita, quindi faceva parte di quel lignaggio che non doveva entrare, invece è entrata. Ma questi no, neanche parlavano giudaico, anzi parlavano il linguaggio di un popolo di un altro. Avevano completamente abbandonato la fede e Dio contessi con loro, ce l'ha con questa metà. E lì maledissi e ne percossi ancora alcuni, scusate, e diversi loro i capelli, le botte gli ha dato. Pensi che l'inferno sia migliore per quelli che dicono che è duro? Poi le feci giurare per il nome di Dio che non darebbero le loro figliole ai figlioli di quei popoli e non prenderebbero le loro figliole né per i loro figlioli né per se stessi. Salomone, disse io, re di Israele, non per coegli in questo? Benché fra molte nazioni non sia stato re pari a lui e che egli fosse amato dagli Dio suo e che il Dio l'avesse costituito re sopra Israele, eppur donne straniere lo fecero peccare e consentiremo noi a voi di far tutto questo grande male, di commettere misfatto contro l'Idio nostro menando mogli straniere? Eccolo il contesto biblico. Ecco perché Nemia è stato così duro. Ma quando arriva il Nuovo Testamento questo rimane come principio spirituale. ma viene annullato come principio materiale. Perché come principio materiale quando tu già sei sposato con una donna o un uomo non credente fisicamente parlando non si separino ma se spiritualmente parlando si devono separare spiritualmente parlando tu non puoi seguire tuo marito o tua moglie spiritualmente parlando in vie che non sono cristiane ma pur fisicamente restino insieme e poi quando suonerà la tromba due saranno in un letto, matrimonio l'uno sarà preso e l'altro sarà lasciato il rapimento della Chiesa Questa è la morale per oggi cioè la voglio ripetere ok? non ti dividere mai dal tuo partner fisicamente parlando ma sì non devi avere comunione con lui spiritualmente quindi ricapitolando il matrimonio da fare è una cosa il matrimonio già fatto è un'altra cosa prima Corinti 7 parla del matrimonio già fatto seconda Corinti 6 parla del matrimonio da fare e sia prima Corinti 7 che Esdra 10 e Nemia 13 ed Esdra 12 ti danno dei parametri molto interessanti per capire e per mettere in pratica vivendo appunto per vivere ciò che è scritto e chi ha orecchie da udire ascolti ciò che è la parola di Dio ha da dire grazie caro amico per questa domanda molto interessante come già ti ho detto non avrei mai immaginato che qualcuno mi avrebbe fatto questa domanda ma questo ci fa capire come veramente è importante appunto fare questi video ok? spero questo video le sia stato di aiuto se lo vuole accettare se non lo vuole accettare ci mancherebbe altro esiste il libero al vidrio comunque grazie per aver scritto Dio la benedica e niente cari amici con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti se il Signore vorrà ci si vedrà al prossimo video programma Shalom Maranatha Cristo viene e sta per rapire la sua chiesa prepariamoci Shalom Shalom